Il prossimo anno si preannuncia come molto importante per Mercedes-Benz, non soltanto perché presenterà il modello EQC che è praticamente pronto agli ultimi colaudi, ma perché presenterà anche il brand EQ che è quello dedicato interamente alle auto elettriche. Ce ne parla nel prossimo servizio Marco Cereda. Il 2019 sarà un anno importante per Mercedes-Benz perché non solo verrà lanciato il primo modello completamente elettrico denominato EQC, ma anche il nuovo marchio EQ di prodotti e tecnologia. Le informazioni della Casa della Stella segnalano che tra gennaio e marzo i prototipi della nuova serie di modelli hanno completato i duri test invernali nel nord della Svezia. I prossimi step verso la produzione di serie sono più test di sospensione e trasmissione e test integrati ad alta temperatura per veicoli completi nell'Europa meridionale. La validazione sistematica di veicoli completi serve a garantire gli elevati standard di qualità ed è una delle fasi più lunghe nel processo di sviluppo di ogni serie di modelli Mercedes-Benz. Prima di entrare in produzione un nuovo veicolo deve raggiungere un livello di maturità definito in modo specifico da Mercedes-Benz. I test digitali coprono tutte le aree chiave dello sviluppo dei veicoli, dalla simulazione e validazione della fattibilità della costruzione, alle prestazioni di crash, aerodinamica, guida e maneggevolezza, rumore, vibrazione, rigidità, peso fino al consumo ed autonomia. Nonostante tutti i vantaggi dei test digitali in termini di velocità, disponibilità dei dati ed efficienza, nessun veicolo entra in produzione in serie senza test completi ed esaurienti. L'attenzione qui è sulla durata dei componenti come trasmissioni sul banco di prova e test funzionali su strada dell'intero veicolo in varie condizioni climatiche. Nel caso dell'EQC ovviamente viene prestata particolare attenzione al powertrain elettrico e alla batteria. Anche loro sono testati e approvati in conformità degli standard estremamente severi di Mercedes-Benz. Un ruolo speciale è svolto anche dall'acustica di un veicolo elettrico, poiché a differenza di un veicolo con motore a combustione, il gruppo propulsore non ha quasi alcun suono. Ciò rende i suoni come il rotolamento delle gomme o il rumore del vento più prominenti. Per soddisfare questi requisiti speciali ci si basa sull'esperienza pluriennale Mercedes nel settore del rumore, le vibrazioni e la rigidità. Con un rapporto tra il 35% e il 65% tra test digitali e test reali, si combina il meglio in entrambi i mondi, nell'interesse dei consueti standard di alta qualità di Mercedes-Benz. Quasi 200 prototipi e veicoli di preproduzione vengono costruiti e testati a questo scopo nelle officine e diverse centinaia sono costruiti prima di essere rilasciato per la produzione, poiché il veicolo deve essere testato e convalidato da numerose persone provenienti da diversi reparti di sviluppo. Un totale di diverse centinaia di esperti sono coinvolti nei test, dai dipartimenti specializzati che approvano i loro componenti e moduli, fino ai test di resistenza nel veicolo completo. Tutto sommato l'EQC è in sviluppo da circa 4 anni. È soggetto a 3 inverni e 3 estati di test, a condizioni estreme da meno 35 gradi a oltre più di 50 gradi centigradi. Prima di arrivare sul mercato in molti paesi del mondo, l'EQC sarà sottoposta a numerosi testi in Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Italia, Dubai, Sudafrica, Stati Uniti e Cina. Per soddisfare gli obiettivi di ogni componente e del veicolo completo, l'EQC sarà presto sottoposta ad un programma di stress nella calura della Spagna. Qui, gli effetti della temperatura durante la guida sono testati in condizioni estreme e anche altri aspetti particolarmente difficili per un veicolo elettrico, come l'aria condizionata e la ricarica. Perché una cosa deve essere ben chiara, l'EQC deve offrire la qualità e l'esperienza di guida di ogni Mercedes-Benz. Grazie a tutti! Grazie.